Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Angio edema day, consulti gratuiti domani sabato 18 maggio negli ambulatori di allergologia e immunologia clinica dalle 9 alle 12. I pazienti si potranno recare al policlinico Duilio Casula, secondo piano del blocco G, per un primo inquadramento della patologia, con una particolare attenzione alle forme ereditarie e rare. Il policlinico Duilio Casula, sempre più a misura di mamme neonato, riapre il puerperio al blocco Q, un ambiente fondamentale che accoglie tutte le donne subito dopo il parto e dove le neomamme vengono assistite dal personale medico specializzato. Questa settimana è andata in onda una doppia puntata di 15 minuti con, dedicata alle malattie sessualmente trasmissibili, con ospiti due esperte dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, la professoressa Laura Zori, direttrice della dermatologia, e la professoressa Anna Maria Fulgesu, referente dell'ambulatorio per l'infanzia e l'adolescenza. Se vi siete persi la puntata, potete trovarla, come sempre, su www.aucaglieri.it e sui social della O. Prossimo appuntamento è un martedì 21 maggio con il dottor Davide Firinu, con cui parleremo di Angio Edema. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn e TikTok. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AAU Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338 7194434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Grazie. Grazie.